La partita non si è messa bene fin dall'inizio, abbiamo subito due rigori, ci dispiace perché arrivati fin qua speravamo in un risultato diverso, però andata così sapevamo che loro comunque erano una squadra forte, però adesso cosa possiamo dire di aver dato il massimo e adesso lottiamo per questo quinto posto, quindi non è finita ancora.